Criptovalute, come iniziare? Questa è la guida definitiva per chi sta partendo da zero e conosce il mondo delle criptovalute. Sa cos'è un Ethereum, sa cos'è un Bitcoin, sa cos'è sono le criptovalute, ma vuole capire tecnicamente come iniziare a comprare criptovalute e quali sono le migliori carte, tra le altre cose, per poter ottenere dei vantaggi. Per esempio, spendere le proprie criptovalute, ottenere dei buoni Amazon, del cashback, dei vantaggi mettendo a rendita le proprie criptovalute, perché nel mondo delle criptovalute devi sapere che c'è la possibilità anche di ricevere degli interessi semplicemente detenendo determinate criptovalute, anche come Bitcoin ed Ethereum. E infatti, all'interno di questo video, in primis vedremo quale carta conto ottenere per acquistare cripto. Probabilmente tu avrai già il tuo conto corrente con la tua banca e potrai effettuare dei bonifici all'interno delle piattaforme che ti consiglieremo noi per poter andare ad acquistare criptovalute. Ma nello stesso tempo, quello che noi vogliamo fare è darti la possibilità di ottenere delle carte o delle carte conto che ti permettono di avere dei bonus di benvenuto e avere dei ritorni dall'acquisto di queste criptovalute. Quindi potenzialmente alcune cripto le potrai quasi acquistare a costo zero. Inoltre, quello che faremo è consigliarti le piattaforme da utilizzare inizialmente per iniziare ad acquistare criptovalute. Naturalmente i nostri non sono consigli finanziari, perché devi sapere che il mondo delle criptovalute è un mondo molto particolare. Qualsiasi cripto potrebbe salire e scendere, è molto volatile, potrebbe anche scomparire. Come qualsiasi piattaforma, naturalmente quello che noi faremo è consigliarti quelle più solide. E quindi vedremo come potrai comprare i tuoi bitcoin, Ethereum, Solana, Terra, Cardano, eccetera, eccetera. In più vedremo quali sono altri piattaforme che possiamo utilizzare per acquistare criptovalute e queste piattaforme ti daranno dei bonus di benvenuto come criptovalute gratis. Ed infine capiremo quali sono le migliori carte per spendere le proprie criptovalute e quindi avere dei vantaggi tra le altre cose come Netflix gratis, Amazon gratis, Amazon Prime gratis, sconti su Booking, il cashback e tra le altre cose rendite molto interessanti sulle criptovalute. Nel punto numero uno vi ho consigliato alcuni conti da aprire per poter acquistare criptovalute. Ve ne facciamo vedere alcuni ma trovate i link in basso. Se avete bisogno anche di altri conti vi dico già e vi anticipo che abbiamo la possibilità di consigliarvi altri conti che vi danno tra l'altro dei bonus di benvenuto all'apertura del conto, molto spesso in denaro reale. Quindi alcuni conti vi danno dei buoni Amazon, altri in denaro reale che poi possiamo usare per spenderli in criptovalute. Capite bene che se un conto mi dà 10 euro gratis io lo uso per comprare cripto e quindi sto comprando criptovalute gratis. Il primo conto è Hype, trovate il link in basso. Tutti i conti per poterli aprire è molto semplice. Cliccate sul link, nella pagina che si apre o se lo state facendo da app scaricate l'applicazione, quindi da smartphone scaricate l'applicazione, dovete effettuare la classica registrazione. Vi ricordo dove chiede il codice referral di inserire il codice referral che vi inseriamo in basso. Questo in generale nel mondo sia delle cripto sia dell'apertura dei conti, ma in automatico dovreste poter fare tutto. Una volta effettuata la registrazione, durante la registrazione naturalmente dovete inserire tutti i dati corretti, i vostri documenti, quindi fare le foto, magari alcune volte selfie, è fondamentale perché se no i conti non vi riaprono. Vi anticipo che questo va fatto anche nel mondo delle criptovalute, perché noi quello che vedremo oggi è tutto ciò che riguarda il centralizzato. Sappiate che però c'è anche una parte decentralizzata delle criptovalute, dove puoi comprare e vendere criptovalute anche senza inviare i tuoi documenti e quindi senza identificarti come persona. C'è un video apposito che abbiamo fatto sul canale, se volete vederlo lasciate un commento e ve lo linkiamo in basso sotto al commento. Quindi per esempio abbiamo Hype che in questo momento, mentre stiamo registrando il video, tra l'altro vi regala anche Amazon Prime per 12 mesi gratis e vi dà un bonus in denaro reale se scegliete la versione di Hype, quella a pagamento, perché c'è una versione gratuita, quindi tutti questi conti sono gratis e ci sono anche versioni a pagamento che le trovate all'interno della sezione Next, in questo caso è Premium. Poi abbiamo un'altra carta molto interessante che vi dà un bonus di 10 euro, che è Curve. Curve tra le altre cose vi dà la possibilità di inserire al suo interno altre carte prepagate e avere un cashback, quindi quando comprate potete avere anche un cashback. Vi anticipo anche un'altra cosa, che alcune carte, soprattutto quelle della vostra banca, magari siete con Intesa San Paolo, siete con Fineco, siete con Unicredit, alcune volte potrebbero crearvi dei problemi quando emettete bonifici o pagate con carta all'interno di exchange dove si possono comprare le criptovalute. Quindi quando parlo di exchange vi parlo anche delle classiche app che poi possiamo usare e che vi consiglierò tra poco per comprare cripto. Questo succede perché è un modo di preservare il vostro conto, ma non vuol dire che queste app facciano chissà che cosa. Io molto spesso ho risolto con alcune banche andando direttamente in banca a effettuare il bonifico usando la carta. Quindi alcune carte non funzionano, altre volte il bonifico non funziona, dovete fare dei test. Ecco perché vi sto consigliando queste carte, perché in questa maniera possiamo comprare cripto. E anche queste stesse carte alcune volte possono creare dei problemi. Ma essendo che sono gratis e che i soldi li potete spostare gratis da una carta all'altra, potete poi spostare tutto nella carta che vi permette di comprare cripto e avete risolto il problema. Purtroppo io non vi posso dire con certezza, essendo che vi farò vedere più piattaforme, qual è la migliore da usare in quanto dovete fare dei test e nel corso del tempo possono variare queste cose. Di certo il consiglio che vi voglio dare in questo video è di ottenerli tutti questi conti, perché sono conti gratuiti, quindi non costano nulla e vi danno dei bonus che potete anche prelevare se volete. Quindi non è detto che li dovete spendere in criptovalute, ma non è il senso di questo video. Quindi sicuramente potete utilizzare YAP, YAP non ci ha mai creato dei problemi e vi dà in questo momento un bonus di 10 euro e altri vantaggi. Revolut, un'altra ottima carta che ci permette di comprare criptovalute anche all'interno di Revolut stesso. Poi come vi dicevo Curve, come vi dicevo Hype, se ne volete altre lasciate un commento. Una volta che avete creato tutti i vostri conti all'interno di queste carte prepagate e avete anche il vostro conto corrente bancario principale, siamo pronti per poter entrare nel mondo delle criptovalute e quindi passiamo alla fase 2. Eccoci qui, in basso troverete il link per potervi iscrivere a cripto.com Mi raccomando iniziate da questo, che è quello che noi consigliamo per iniziare in quanto è il più semplice da utilizzare ed ha anche un ottimo bonus di benvenuto, oltre che a delle ottime carte che possiamo sfruttare. Poi ve ne faremo vedere altre all'interno di questo video. Quello che dovete fare quindi, dopo aver ottenuto i vostri conti dove ci sono dei soldi reali, del denaro reale, perché se no non possiamo comprare criptovalute, quello che dobbiamo fare è andare quindi in basso, cliccare su cripto.com e o scaricate l'app o fate tutto da PC. È uguale. Considerate che il sito web del PC, l'exchange ufficiale e l'app si collegano tra di loro, quindi non è un problema. Quello che dovete fare voi però è stare attenti che ci sia questo codice referral, perché questo codice referral vi permetterà di ottenere 25 dollari di croche, la criptovaluta ufficiale di cripto.com, che poi potete convertire anche in bitcoin per dirvela tutto, o in denaro reale, come bonus di benvenuto. Quindi se volete delle criptovalute gratis, dovete comunque registrarvi dai referral code che trovate in basso. Il primo ribet, iniziate da questo per non sbagliare, cripto.com, la registrazione è facile, perché se già vi siete registrati alle carte prepagate o avete aperto un conto corrente, sapete bene che anche qui vi chiederanno email, nome, cognome, via, quindi l'indirizzo, i vostri dati personali, i documenti, quindi per esempio vi chiederanno magari il passaporto, la patente, la carta d'identità, vi chiederanno un selfie alcune volte, ora non ricordo se cripto.com chiede il selfie, comunque chiederanno sicuramente delle foto e quindi faranno questa verifica che di solito è veloce. Una volta effettuata la verifica vi manderanno naturalmente un email che dovete confermare, un sms al vostro numero di telefono, quindi una volta che avete fatto tutto questo dovreste ritrovarvi all'interno o dell'exchange ufficiale di cripto.com o all'interno dell'app con il conto verificato. Ok, siamo all'interno dell'app ufficiale di cripto.com e come potete vedere io qui mi ritrovo tra i preferiti le varie criptovalute che posso acquistare con i relativi prezzi, i maggiori guadagni ed altri dettagli. Ora, io quello che farò all'interno dell'app come primi step fondamentali è in primis caricare il conto di cripto.com e ho due possibilità. Ho deciso di comprare una criptovaluta direttamente con carta, considerate che nei primi 30 giorni perlomeno mentre sto registrando il video non ci sono fi se acquistiamo con una carta qualsiasi le criptovalute oppure possiamo decidere di effettuare un bonifico su cripto.com e di conseguenza lì non abbiamo fi. Quindi facciamo un bonifico dal nostro conto o dalla nostra banca e i soldi arrivano qui su cripto.com. Un'altra cosa però fondamentalissima a volte ad acquistare criptovalute è selezionare la carta. Ci sono diverse carte su cripto.com io se clicco in basso a destra su carta mi fa vedere già il conto della mia carta perché? Perché già l'ho ottenuta noi abbiamo ottenuto la Royal Indigo. Infatti una cosa che adesso vi faccio vedere prima di capire come comprare criptovalute vi mostrerò le carte che possiamo ottenere su cripto.com così sappiamo già quali sono i primi passi fondamentali che dobbiamo fare dopo che abbiamo deciso quale carta vogliamo acquistare. Vi anticipo siamo tornati all'interno del mio PC che abbiamo fatto un video dove c'è la comparazione totale di queste carte trovate il link in descrizione così potete vedere questo video. Detto questo però fondamentalissimo è comprendere che a seconda della carta che andate a scegliere ci saranno delle azioni che dovete fare su cripto.com Vi anticipo già se volete ottenere il bonus di 25 dollari dovete obbligatoriamente prendere la carta da Ruby Steel in poi se invece non ve ne frega niente del bonus di 25 dollari e secondo me fate un errore perché può essere molto utile prendere questo bonus allora potete scegliere questa Midnight Blue che è gratuita quindi non pagate nulla. Tutte le carte sono gratuiti attenzione quindi non è che hanno dei costi questa cifra che vedete qui essenzialmente è l'acquisto che voi andrete a fare all'interno di cripto.com di CRO che è la moneta ufficiale dell'app quindi cripto.com ha creato la sua criptomoneta che si chiama CRO che è un'ottima criptomoneta che abbiamo anche analizzato nel canale potete vedere il video apposito è secondo noi una criptomoneta non è un consiglio finanziario ma secondo noi crescerà nel corso del tempo può essere molto interessante iniziare a comprare CRO è una di quelle criptomonete da cui potete iniziare al di là di Bitcoin e Ethereum che tutti li conosciamo ora quello che voi dovete fare nell'app nella sezione dedicata alla card dove vi ho fatto vedere prima è cliccare sulla card e scegliere quella che preferite naturalmente se scegliete la Midnight Blue la selezionate andate avanti nella procedura e quindi poi ottenete questa carta se invece volete la Ruby Steel o la Royal Indigo noi abbiamo scelto questa per esempio allora dovete andare a caricare il conto di Crypto.com e acquistare i CRO per poter poi successivamente ottenere questa carta quindi è fondamentale fare questo e adesso vi facciamo vedere come si fa in ogni caso quali sono i vantaggi ve li dico al volo nonostante abbiamo fatto un video come vi dicevamo anche nel titolo del video è che avete dei cashback dei cashback significa che io vado a fare la spesa pago con questa carta e praticamente mi ritornano il 2% l'1% il 3% addirittura l'8% indietro di quello che ho pagato e mi viene ritornato in CRO che io posso ripendere subito e lo trasformo in denaro reale in più come vi avevamo detto possiamo avere Netflix gratis Spotify gratis Prime di Amazon gratis sconti su Expedia Airbnb le lounge aeroportuali gratis e altri vantaggi molto interessanti prelievi gratuiti e poi anche gli scambi internazionali come potete vedere o gratuiti fino a un tot di euro o addirittura illimitati quindi senza nessuna fee senza nessuna transazione che noi andiamo a pagare per chi viaggia questo può essere molto utile perché immaginate chi viaggia molto le lounge aeroportuali e questi prelievi o pagamenti senza fee sono manna dal cielo va bene quindi scegliete la carta che secondo voi ha senso scegliere potete iniziare anche da questa gratis però noi magari vi consigliamo questa qui se volete prendere il bonus perché capite vi da Spotify gratis il 2% invece dell'uno e questi 350 euro dopo sei mesi li potete vendere ma magari questi cro nel frattempo sono diventati 700 euro si spera e quindi avete anche fatto un bel guadagno qui addirittura da questa carta in poi vi da anche delle percentuali quindi un ritorno dal fatto che voi detenete questi cro quindi ci dà degli interessi passivi che sono del 10% annuale quindi significa che su 3.500 io ho un ritorno di 350 euro in più semplicemente perché ho detenuto questi cro e se aumentano di valore non ne parliamo però vi rimando al video questo guardatelo dopo questo video naturalmente per capire se voi volete scegliere questa carta questa carta questa carta addirittura se avete il budget queste due carte immaginiamo di voler comprare la nostra prima criptovaluta magari andiamo all'interno della lista delle criptovalute vedete io le trovo tutte qui immaginiamo che io voglio comprare Binance Coin quindi non metto Bitcoin metto Binance Coin ok come potete vedere qui mi fa vedere il grafico mi ritrovo il prezzo e quello che devo fare è cliccare su compra BNB fatto questo ho diverse opportunità la prima è quella di pagare con carta di credito quindi io seleziono la mia carta oppure clicco su aggiungi carta di credito di debito vi faccio vedere quindi io aggiungo la carta andando ad inserire i dati quindi il numero della carta la scadenza il CVV nome e cognome aggiungo la carta adesso torno indietro in quanto abbiamo già inserito delle carte ok e voi potete inserire una delle carte prepagate che avete ottenuto inizialmente guardando questo video perché vanno bene anche le carte virtuali non fisiche ok e quindi io decido per esempio di comprare un BNB clicco su compra un BNB e mi da praticamente il mi uscirà la voce che io qua pago una commissione del 2,99% quindi spunto e clicco su continua nel vostro caso invece c'è quello che succederà che è gratis sui primi 30 giorni quindi non avete problemi ok vi ricordo però che se volete per esempio prendere la carta di crypto.com quello che dovete fare io torno indietro e andare su cro vi parlo la carta quella da 350 euro in su per avere quel bonus vado su cro clicco su compra cro e quindi naturalmente compro quanto vado a impostare una somma per esempio compro 1500 cro che in questo momento costano 459 magari voglio comprare 350 euro di cro così mi sblocco quel bonus ok mi arriva anche la carta ruby steel allora io vado a fare un calcolo al volo vedete posso anche fare così e quindi capire più o meno a quanto corrispondono ecco 1150 cro 352 va benissimo e allora io posso decidere di pagare con carta di credito non avete commissioni oppure posso decidere di pagare con le crypto wallet quindi vado a convertire una delle mie criptomonete in cro oppure un altro aspetto quindi se ho già criptomonete ma questo non è il vostro caso oppure un'altra cosa che voi potete fare è creare il fiat wallet che cos'è il fiat wallet è il wallet dove al suo interno possiamo effettuare i bonifici e quindi di conseguenza andare a dalla nostra banca o dal nostro conto inviare dei denaro su crypto.com gratis quindi abbiamo solo la fida della nostra banca se il bonifico costa un euro paga un euro tutto qui e poi io con questi soldi non avrò nessuna fee nessuna commissione da pagare infatti io che cosa vado a fare vado a selezionare il fiat wallet e poi vado a selezionare naturalmente i crocchi che voglio comprare e poi clicco su acquista in questo caso mi dice guarda il tuo saldo è insufficiente quindi in questo momento io non posso andare a acquistare però quello che vado a fare naturalmente è mettere il massimo che posso comprare qui mi dice guarda però è sotto il limite di 3,48 perché c'è anche un limite di acquisto come potete vedere in ogni caso questo è un conto che abbiamo appunto azzerato da poco perché abbiamo fatto degli acquisti proprio negli scorsi giorni però se io volessi caricare il conto adesso vi faccio vedere come lo possiamo fare in modo tale che se non voglio pagare con carte e voglio effettuare un bonifico lo posso fare ok quindi per poter effettuare un bonifico e caricare il mio conto di crypto.com vado nell'home page clicco in basso su conti fatto questo come potete vedere tra i vari conti mi ritrovo fiat wallet il fiat wallet è dove ci sono le valute fiat come euro come dollari eccetera ora io già me la ritrovo perché l'ho fatto già ma se voi non avevate impostato il tutto vi bastava cliccare su configura nuova valuta cliccate su euro andate avanti ed effettuate la procedura è molto semplice ed equidata nel caso in cui io adesso voglio depositare del denaro all'interno del mio conto di crypto.com clicco su trasferisci e clicco su deposita posso anche prelevare quindi come potete vedere io posso vendere cripto e prelevare quindi già rispondiamo alla domanda come posso prelevare le criptovalute che ho acquistato e che poi ho venduto ok vado su questo conto quindi questa cosa non ve la faccio vedere dopo così l'avete vista adesso clicco su preleva e poi praticamente vado a selezionare il conto fiat e poi qua vado a cliccare su preleva perché ho impostato già il mio conto corrente va bene ora io ritorno qui clicco su trasferisci in questo caso voglio depositare se voglio depositare clicco su trasferisci clicco su deposita vado a selezionare euro ok qua come potete vedere mi dice devi effettuare un bonifico trasferisci fino a un milione di euro alla volta due cinque giorni di media vado qua e questo è un dato molto importante ok perché io vado a copiare tutti quanti i dati che devo andare a inserire all'interno del bonifico che vado a effettuare alla mia banca attenzione cosa molto importante i bonifici all'interno di crypto.com li possiamo effettuare solo da conti intestati a noi quindi se io mi chiamo Francesco Rossi i conti correnti che inviano bonifici al conto di crypto.com devono essere interessati a Francesco Rossi e non a Federica Rossi che magari è la sorella perché crypto.com non li accetta quindi mi raccomando effettuate bonifici solo su conti intestati a voi copiate tutti i dati che vedete qui non vi devo insegnare a fare un bonifico e in uno o due giorni dovrebbero arrivare questi soldi all'interno del conto come avete visto comunque precedentemente nella schermata precedente al massimo due o cinque giorni lavorativi ok siamo all'interno ancora dell'app di crypto.com perché vi voglio far vedere proprio per concludere ed essere sicuri che avete capito come poter comprare criptovalute nel momento in cui noi ci ritroviamo i nostri fondi nel fiat wallet quello che possiamo fare io vado per esempio nelle criptovalute ok e vado a ricercare una cripto che costa abbastanza poco in questo momento che è Bet ok che è WeChain e quindi decido per esempio di andarla ad acquistare in questo momento in questo momento sta a 0,04 se vado a vedere quello che è successo nell'ultima settimana è passata da 0,06 ha avuto questo calo quindi ok potrebbe per me avere senso entrare in WeChain ma non è un consiglio finanziario vi faccio capire quello che posso andare a vedere perché quando vado a comprare le criptovalute vado a vedere un po' il totale oppure il massimale comunque l'abbiamo già recensita quindi io qui posso vedere i grafici una volta che vedo quella che è la capitalizzazione di mercato il volume delle ultime 24 ore la classifica all'interno poi delle capitalizzazioni di mercato è 35esima ok decido di comprare VET ne ho 13,9 ne voglio aggiungere ancora io adesso quello che vado a fare è aggiungere però dei fondi attraverso il fiat wallet quindi vado qui nei VET e vado a voler comprare 15,1 VET ok quindi metto il massimo che posso comprare adesso clicco su compra 15,1 VET come potete vedere questo è il tasso non ho nessuna commissione in quanto sto pagando col bonifico quello che vado a fare è qui in alto un countdown 7,6 eccetera eccetera vedo il prezzo l'importo tutto quello che ho già visto mi va bene clicco su conferma ed ecco che ho comprato 15,1 VET molto semplice me li ritrovo all'interno del mio portafoglio perché adesso si aggiorno ok dovrebbero essere non più 13,9 ma qualcosina in più vediamo se me lo fa vedere ecco qui vedete ne ho 13,9 più 15,1 ne ho 29 infine quali sono le migliori piattaforme che possiamo utilizzare oltrecrypto.com per acquistare e vendere criptovalute e utilizzare delle carte per poter spendere le nostre criptovalute ve ne presentiamo due ma ne abbiamo trattate tante all'interno del canale quindi vi consigliamo di visionare i tutorial che abbiamo realizzato sul canale sicuramente Binance è una di queste in basso trovate il link per potervi iscrivere gratis a Binance e avere dei bonus di benvenuto Binance è l'exchange numero uno al mondo per quanto riguarda il mondo delle criptovalute quindi per acquistare e vendere criptovalute tra l'altro un po' come possiamo fare anche nell'exchange e quindi nella piattaforma web di cripto.com abbiamo la sezione trading dove possiamo fare trading di criptovalute tra le altre cose che non vedremo in questo video perché è una cosa un po' più avanzata ma sappiate che si può fare Binance quindi ha sia l'applicazione sia il sito web ha questa carta che ci dà la possibilità di avere fino all'8% di cashback dagli acquisti possiamo pagare con zero commissioni possiamo conservare le criptovalute e convertirle solo quando ne abbiamo bisogno e quindi da questo punto di vista capite che può essere un vantaggio nel caso in cui vogliamo spendere poi le nostre criptovalute un altro conto è anche Nexo considerate che sia per quanto riguarda Binance sia per quanto riguarda Nexo abbiamo fatto due video tutorial completi dove spieghiamo come funziona Nexo ha sia l'applicazione sia il sito web per comprare e vendere criptovalute e abbiamo anche la carta che ci dà la possibilità di avere un cashback fino al 2% da tutti i nostri acquisti possiamo anche generare delle carte virtuali quindi non solo la carta fisica ma anche attraverso lo smartphone non abbiamo fee non abbiamo problemi di alcun tipo nei pagamenti è accettato infatti in tutto il mondo e ci dà poi dei vantaggi che possiamo utilizzare all'interno dell'app stessa questo è un altro aspetto molto importante su Nexo tra le altre cose ci sono delle percentuali molto interessanti se vogliamo mettere a rendita le nostre criptovalute anche su Binance che è pieno di roba che possiamo fare vi consiglio di vedere tutti i video che abbiamo dedicato a Binance ma su Nexo anche si può fare anche in questo caso vi consiglio di andare a visionare il video tutorial completo se invece avete dubbi o domande c'è qualcosa che non è stata chiara all'interno di questo video vi consigliamo di lasciare un commento qui in basso perché noi di Cryptovalute Italia siamo sempre pronti a supportarvi e se il video è stato utile iscrivetevi al canale Grazie a tutti